Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia speciale del Liverpool dedicata a LeBron James, the king, per la stagione 22-23, in edizione FUN! Il mondo dello sport celebra il record di LeBron James. LeBron è noto anche per essere uno di quelli sportivi che investe molto nello sport. Tra le sue attività imprenditoriali, il numero 6 dei Lakers è uno degli azionisti del Liverpool. Il design di questa maglia presenta una base nera con strisce a blocchi grigio-scuro, accentuate da profili rossi. I dettagli all'interno delle strisce presentano due acronimi quasi traslucidi che rappresentano LFC e LeBron, YNWA, You'll Never Work Alone, e SGFSFG, Strive for Greatness. Sulla maglia sono presenti anche l'iconico stema del Liverpool, lo swoosh di Nike e la corona, che è il brand di LeBron. Stupenda! Questa maglia è una maglia che dovete avere. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Il massimo la dovete avere se non altro perché è dedicata al giocatore che ha fatto più punti della storia dell'NBA. Qui in alto trovate il costo bassissimo per una maglia fatta molto bene, con tutte le rifinitere giuste e con dei tempi di spedizione velocissimi. Questa è arrivata in 12 giorni. In descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. E' una tanna!